5-600 milioni di anni fa, questo era un fondale marino, acqua dappertutto, balle, è la verità. Qui hanno trovato un mucchio di fossili marini, piccoli crostaci, i trilobiti, simili a gamberi senza chene, vivevano nel fondo dell'oceano. Ve lo immaginate? Affogare nel deserto, ci manca solo questo. E vi dirò anche un'altra cosa, ancora più strana, ci sono delle voragini a sud, sì, delle fosse, profonde, alcune addirittura più di 100 metri. E una di queste, pensate, è piena a metà di ghiaccio, che non si scioglie mai, ghiaccio, ed è in pieno deserto.